Ed eccolo qui per l'Italia Luca Marziani e Tokyo du Soleil, anche loro un fantastico primo round con soltanto una penalità per il tempo alle spalle. Ok, forza Luca, una penalità, una penalità che ci tiene leggermente distaccati dalle tre squadre con quattro. Questo è l'occhio numero quattro, adesso viene avanti, verticale, cinque e sei tempi. Molta concentrazione, la triplice. Uno, due, tre, sei, sette. Tiene bene per il verticale, aiuta per l'uscita. Ok, ultimi tre salti, deve guadagnare un po' per il tempo, deve fare attenzione. L'aiuto con la voce. E ora l'ultimo salto, 74, 75, viene avanti nella girata, stringe, ultimo salto e va a chiudere. C'è lo zero, l'Italia parte con lo zero di Luca Marziani e questo è un buon risultato. Grande Luca! Migliora la sua prestazione. Leggermente più veloce adesso.